Il cinema, cosa sarebbe la nostra vita senza il cinema? Daniela Poggi? Io sarei assolutamente a terra, perché ho bisogno del cinema per volare, per viaggiare. C'è un cortometraggio? A quale cortometraggio lei, Daniela, tiene tantissimo. Sì, è un cortometraggio, secondo me, molto divertente, ma che ti permette una grande riflessione, una ponderazione in merito... Ritorno al presente. Ritorno al presente, che è un cortometraggio scritto da Max Nardari, prodotto dalla Reset Production, con la Veneto Fink Commission, un cast con Clizia Fornasea, Tiglio Fontana e me. È una storia molto divertente di una giovane attrice che entra in coma e si risveglia 30 anni dopo e si ritrova in un mondo nel 2022 in cui non trova più un'attinenza al linguaggio di ieri, non si ritrova più, perché i social hanno praticamente modificato quello che è il rapporto di relazione con l'altro, ma soprattutto anche il rapporto di relazione con se stessi. Quindi è un corto che permette anche una riflessione su chi vogliamo essere, vogliamo apparire o vogliamo essere, e soprattutto anche pensare, vogliamo tornare un attimo al nostro presente, a quel presente importante in cui siamo noi. ritorno al presente, mi farebbe tanto piacere una provocazione, chiaramente questa, di mandare il link a Fumagalli, se posso, perché ho visto che tra i tre nostri critici è quello che... Sarà fatto, sarà fatto. Intanto andiamo avanti con i film della settimana. Grazie, grazie davvero a voi tutti. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Grazie a tutti.